Vi ricordo che dal 23 dicembre dello scorso anno il primo canale Dino Tinelli ha cambiato veste e nome rinnovandosi in Canal 104+. Invito a chi non ha visto il video rimosso da YouTube su questo canale di cercarlo attraverso indice alfabetico sotto la voce Epstein per distrarre le persone, news del giorno della Befana 2024. Il secondo canale YouTube è sempre e rimane sempre con lo stesso nome Dino Tinelli. Per le vostre ricerche fate uso del punto di riferimento indice alfabetico dal sito web www.tinelli.eu perché oltre ad essere costantemente aggiornato all'inizio della pagina suggerisco vecchi video che hanno sempre tematiche interessanti e altri video che però abbia ragioni delle linee guida del regime non si possono pubblicare sui due canali che ho appena citato. Il libro di risveglio è sempre in pronta consegna e vi invito a giocare a chi cerca trova. Nella home di www.tinelli.eu se cercate riuscite a scaricare la copia omaggio in bassa risoluzione. Cerca cerca trova trova. Collaboro sempre con l'esclusivo Canal 104 Plus Telegram dove vi invito a prendere visione delle tematiche decisamente importanti e ma solo se vi va è gradito anche il semplice valore di una buona tazzina di caffè. Ben ritrovati dopo la settimana di fermo obbligatorio. Dalla Sacra Scrittura conosciuta come Bibbia per coloro che vi si affidano vi leggo un paio di versetti della Nuova Diodati, le altre versioni sono molto simili. Isaia 47,13 Tu sei stanca di tutte le tue consultazioni. Si alzino dunque quelli che misurano il cielo, che osservano le stelle, che fanno pronostici a ogni novilunio. Ti salvino essi dalle cose che ti piomberanno addosso. Anzi leggiamo anche i testimoni di Geova. La moltitudine dei tuoi consiglieri ti ha sfinito. Si alzino ora e ti salvino loro, quelli che adorano i cieli e osservano le stelle che alla luna nuova svelano ciò che ti accadrà. Dovreste comprendere che coloro che sanno leggere nel cielo conoscono il futuro, nonostante la Bibbia ammonisce di non fare riferimento a qualsiasi tipo di predizione. I lettori del cielo attuale, gli astronomi e gli astrofili, sanno solo distinguere a malapena le luci chiamate stelle, ma non sanno assolutamente nient'altro perché sono stati abbindolati a sapere solo a riconoscerle le luci e dove si trovano nel cielo perennemente uguale da migliaia di anni. E invito, come da titolo, a mettere i piedi per terra e misurarla la terra, non il cielo. Un altro versetto non a caso, Isaia 40, 26. Levate in alto i vostri occhi e guardate, chi ha creato questi astri? Egli fa uscire in numero preciso il loro esercito e li chiama tutti per nome. Per la sua onnipotenza e il vigore della sua forza non ne manca alcuno. Anche qui vediamo i testimoni di Geova. Alzate gli occhi al cielo e osservate, chi ha creato queste cose? Colui che le fa uscire come un esercito, conoscendone il numero esatto. Le chiama tutte per nome. Grazie alla sua immensa energia e alla sua straordinaria potenza, non ne manca nessuna. Cosa si comprende da questo versetto? Che gli astri, le luci sono sempre quelle, non spariscono perché scrivono che non ne manca nessuna. Non che le stelle muoiono, come dicono gli pseudoscienziati, e che già allora avevano il loro nome. Infatti, in Salmi 147,4, egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Approfitto per i nuovi, le nuove su questo canale desiderosi di approfondire, che sempre attraverso il fornito indice alfabetico sotto le voci versetti, trovate diverse analisi sui versetti della Bibbia che parlano chiaramente della terra piana. Abbandoniamo la Bibbia e prendiamo in esame Enuma Elish. È un poema teogonico e cosmogonico in lingua accadica, appartenente alla tradizione religiosa babilonese che tratta in particolar modo del mito della creazione, la teomachia che diede origine al mondo come lo conosciamo e le imprese del dio Marduk, divinità poliade della città di Babilonia. Andiamo a leggere la tavola quinta. Ha creato stazioni celesti per i grandi dèi e stabilisce le costellazioni, i modelli delle stelle. Fissò l'anno, segnò le divisioni e fissa tre stelle ciascuno per i dodici mesi. Dopo aver organizzato l'anno, stabilì la stazione celeste di Neberu per fissare gli intervalli delle stelle, che nessuno trasgredisca o sia indolente. Con esso fissò le stazioni celeste di Enlil ed Ea. Aperse le porte da entrambi i lati e metterà i chiavistelli forti a sinistra e a destra. Qualcuno dirà che serve tutto questo, semplicemente che le antiche scritture, Bibbia o altro, descrivono un cielo che si ripete e di cui non sappiamo nulla se non il credo in un'espansione infinita, mentre in realtà è sempre regolare e che si ripete da millenni. Detto questo andiamo a vedere parte di un video molto più lungo dove l'autore del canale TFHM, Flat Earth Portal, ha usato il telescopio per prendere visione della realtà palpabile della Terra. Comunico che lo strumento migliore è la fotocamera raggi infrarossi che vince l'umidità presente nell'atmosfera per questo tipo di rilevazioni. Il telescopio usato è un Celestron C8 Schmid-Krein con alcune modifiche. Mi auguro che sempre molte più persone inizino ad usare il telescopio orizzontale anziché verticale. Il video originale è stato ritagliato un po' per avere migliore visibilità. Il video inoltre è ben più lungo e da solo smantella il globo, ma andremo a concentrarci su alcune osservazioni. Iniziamo con la posizione sulla riva del mare del canale Bristol del Regno Unito. Qui potete vedere le coordinate. Google rileva una elevazione zero, ma questo è il video dove ha posizionato il telescopio. Come potete vedere è sopra il livello dell'acqua. Il centro del telescopio, considerando spiaggia e caballetto, si trova a 1,80 m sopra l'acqua. Il telescopio è qui e la maggior parte della ripresa è stata fatta nell'area di questo rettangolo. Vediamo il video. Già all'inizio il globo è in difficoltà. Il primo edificio che si vede è il CPE Euromix. Questa struttura si trova a 15 km 932 m. L'altezza dal livello del mare di quella località è 5 m. Secondo il modello del globo, la pseudocurvatura della Terra dovrebbe nascondere il nostro obiettivo di 9,74 m. Quindi la base dell'edificio dovrebbe essere nascosta di 4,70 m. Possiamo affermare da questo camioncino che passa che nessuna parte dell'edificio è nascosta. Mentre ci spostiamo a destra vediamo il traffico che non si dovrebbe assolutamente vedere se fossimo veramente sul globo. Ad esempio, quando stoppiamo il video con questo camion di fronte alla struttura, il camion si trova a 15 km 563 m. L'altezza sul livello del mare della strada è 8 m e considerando che il camion sia alto 4 m, secondo il calcolo della curvatura del globo, più di 9 m dovrebbero essere nascosti dalla pseudocurvatura. Dovremmo vedere solo la parte superiore del camion. Invece si vede la parte bassa del camion e la riva. Saltiamo avanti fino a questo punto dello scarico dell'acqua nel canale che si trova proprio sulla spiaggia e sta a 14 km e 100 m. Secondo il globo, circa 6 m e 800 cm dovrebbero sparire dietro la pseudocurvatura. Non si dovrebbe vedere come si vede qui e non spendete tempo a spiegare che esiste la miracolosa rifrazione per spiegare che il paesaggio si alza oltre la gigantesca gobba del globo. Se siete intellettualmente onesti dovete ammettere che la veduta diretta della spiaggia, ad oltre 14 km di distanza, sarebbe impossibile su un globo. Andiamo avanti fino a questo vecchio molo, un'ulteriore dimostrazione che svantella l'esistenza di qualsiasi curvatura. Quel punto è a 13 km di distanza dal telescopio. Secondo il globo l'orizzonte dovrebbe arrivare solo fino a 4,789 m, ma si vede l'acqua oltre il molo esattamente qui. Ciò dimostra senza qualsiasi dubbio che non esiste la presunta curvatura che blocca la vista della spiaggia opposta. È semplicemente impossibile se vivessimo veramente su un globo. Per chi desidera approfondire ulteriori analisi accurate avete a disposizione le playlist Curvatura ed orizzonte e Prospettiva perché non vedo fino in America. Il mio sincero saluto è grazie di aver guardato. Dino